e vogliamo prendere questo presepe come il punto di contatto per arrivare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie. Con la nascita di Gesù, celebriamo la sua memoria, sia una causa di gioia, di guarigione, di consolazione per noi e per il mondo intero. E rivolgiamo anche alla Madonna, questa figlia di Sirion, che pienamente ha accettato la volontà di Dio per essere madre di Dio, il primo tabarato. Anche noi vogliamo seguire il suo esempio per accettare e dare la disponibilità del nostro cuore così e così la volontà di questo Dio, bambino, Emanuele, si realizza nella nostra vita e nella nostra comunità. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, ti diamo tutto l'onore, ti accogliamo nel nostro cuore, nella nostra comunità. Ti preghiamo di guardare il mondo intero che sta soffrendo e che la tua nascita ci porta la gloria, la felicità e la consolazione. Per tutte le persone che stanno soffrendo a causa della malattia, diamo anche un piccolo pensiero al nostro confratero, lontante che non è con noi adesso. Chiediamo la luce, la misericordia e il conforto del Signore. Dicendo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, con tutto l'onore e fede, cantiamo. Salute night, holy night, all is fine, all is bright, Allora, con tutto l'onore e fede, cantiamo. Grazie a tutti. 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 Buon Natale a tutti voi.